Adoro la goduria lax perché è golosissima e 20 grammi di goduria lax hanno solo 96 calorie mentre 20 grammi di nocciole hanno quasi 130 calorie. A parità di peso con la goduria abbiamo meno grassi e meno calorie ma dei vantaggi in più perché nella goduria più del 50% del peso sono nocciole quindi tutti i loro grassi buoni amici del cuore e in più qui abbiamo le fibre prebiotiche che aumentano le nostre difese immunitarie date dall'inulina e abbiamo il potere antiossidante dell'eritritolo utilizzato come dolcificante quindi meno grassi meno calorie ma molti vantaggi più. Quale nutrizionista non consiglia di sgranocchiare qualche grammo di frutta secca ogni giorno? Oggi con la goduria lo possiamo fare ma con molto gusto in più e d'estate possiamo realizzare dei fantastici ghiaccioli con la goduria. Un recipiente pari peso di goduria lax e di acqua oppure al posto dell'acqua possiamo utilizzare un latte di mandorle senza zuccheri aggiunti. Eccoci qua abbiamo creato dei piccoli cioccolatini in questi contenitori per il ghiaccio vedete che belli escono fuori meravigliosi e li possiamo servire mari con il caffè perché no abbiamo creato anche i nostri ghiacciolini guardate che carini da prendere a merenda pochissime calorie pensate solo 120 calorie per ogni ghiacciolino e soltanto 30 calorie per ogni cioccolatino di goduria che possiamo prendere magari insieme con il caffè. Io non resisto e me ne mangio subito uno.